Non si attenuano le polemiche sorte in seguito al cedimento parziale del viadotto scorcia vacche 2, inaugurato sulla strada statale 121 nel Carafrì di Palermo lo scorso 23 dicembre. Già la Procura della Repubblica di Termini Merese avrebbe aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di crollo colposo. L'opera, costata 13 milioni di euro, ha improvvisamente ceduto senza coinvolgere fortunatamente nessun mezzo in transito. Queste sono le immagini registrate qualche giorno prima del cedimento durante i lavori di adeguamento. Il Premier Renzi dei Social Network fa sapere di avere chiesto ad ANAS, società appaltante dell'opera, di fornire al governo in nomi dei responsabili. È finito il tempo degli errori che non hanno mai un padre, dichiara Matteo Renzi, pagheranno tutto. Sul dinaccettabile crollo interviene anche il Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, o immediatamente chiesto all'ANAS, dice Lupi, una relazione dettagliata sull'appalto, sui lavori e anche sulla commissione di collaudo. Dal canto suo ANAS, che ha avviato un'inchiesta sulle responsabilità del caso, precisa che il cedimento non è stato del viadotto ma del tratto di rilevato di accesso all'opera. Secondo quanto si legge in una nota della società, il 30 dicembre, personale tecnico ANAS intervenuto sul posto, avendo accertato un avvallamento del piano stradale, decise di procedere in via cautelativa e preventiva alla chiusura della strada tra il km 226,40 e il km 227,40 in località Mezzoiuso in provincia di Palermo, ripristinando la deviazione sulla strada provinciale 55 bis. Intanto ANAS ha subito contestato al contraente generale dei lavori il difetto di esecuzione, disponendo l'installazione di un sistema di monitoraggio di tutte le strutture su cui regge la strada e ordinando il ripristino della carreggiata nel più breve tempo possibile. I lavori sono stati realizzati dalla Bolognetta SCPA, un sviluppamento di imprese a cui fanno capo la CMC di Ravenna, la Technics e la CCC, la Technics.